Buongiorno bambini oggi faremo un lavoro e non mi sassate il cazzo solo perché non vi piace. Allora Benedetta la tetta con Alex la cogliona poi Penelope il pene e Giorgia la donna, lavorate figli di puttana. Maestra io non voglio stare con questa troia, no 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 no. Neanche io a a a a a a a muori. E che devo dire io che sto con il pene? A a a a a a a a godo pezzo di merda. Ma perché ho una classe di merda? Voglio morire.